Diario del Marchese di Rose Veri 12 giugno 1880 All'Eche. Vogliono che vada a passare un mese all'Eche, misericordia, un mese in quella cittadina che è definita come la più triste, la più morta, la più noiosa delle stazioni termali. Ma che dico cittadina? È solo un buchetto, un paesucolo. Insomma, sono condannato a un mese di cure. 13 giugno Tutta la notte ho pensato a questo viaggio che m'angoscia. Non posso fare che una cosa. Portarmi dietro una donna. Forse sarà una distrazione. E poi riuscirò così a sapere se sono fatto o no per il matrimonio. Un mese a tu per tu. Un mese insieme con una persona. Totale vita di coppia e di chiacchiere a tutte le ore diurne e notturne. Che prospettiva! È però vero che prendersi una femmina per un mese non è grave come prendersela per tutta la vita. Ma è già un affare più serio che prendersela per una sola notte. È vero che potrò sempre rispedirla via con un migliaio di franchi. Ma in questo caso rimarrai solo a lei. Una cosa ben triste. La scelta non sarà facile. Non voglio né una civetta né una stupida. Non voglio sentirmi ridicolo o dovermi vergognare a causa di lei. voglio che la gente dica ecco un'altra conquista del marchese di Roseverie. Ma non che sussurri povero marchese di Roseverie. Insomma, mi trovo nella necessità di chiedere alla mia compagna provvisoria tutte quelle qualità che richiederò a quella definitiva. L'unica differenza è quella che può esserci tra un oggetto nuovo e uno acquistato a un prezzo d'occasione. Insomma, si può trovare. E ci penserò. 14 giugno. Verde. Ecco, quella data a me. Vent'anni, carina, diplomata al Conservatorio d'Arte Drammatica, in attesa di una parte, futura stella del palcoscenico. Bei modi, nobiltà di portamento, umorismo e... Amore. Un oggetto d'occasione che può passare per nuovo. 15 giugno. È libera. Non ha impegni né di lavoro né sentimentali. Accetta. Ho ordinato personalmente i suoi vestiti, in modo che non sembri una mantenuta. 20 giugno. Basilea. Lei sta dormendo e io comincio il mio diario di viaggio. È proprio molto graziosa. Quando alla stazione mi è venuta incontro, non la riconoscevo. Sembrava proprio una dama della buona società. Di sicuro ha un avvenire. In teatro. Mi è sembrata molto cambiata nelle maniere, nel portamento, nel contegno, nei gesti, nel sorriso, nella voce, in tutto. Insomma, irreprensibile. E com'era pettinata bene. È un modo divino. Una conciatura semplice e incantevole. Di donna che non deve più attirare gli sguardi. Che non deve più piacere a tutti. Non deve più sedurre subito coloro che la stanno guardando. Anche in tutto il suo modo di fare. Tutto ciò era indicato in maniera sicura e totale, con una metaforfosi tanto completa e abile, da indurne a offrirle il braccio. Così come avrai fatto con mia moglie. Nell'intimità dello scompartimento siamo rimasti dapprima immobili e silenziosi. Poi lei ha sollevato la veletta e ha sorriso. Niente di più. Un sorriso delicato. Eh, io temevo il bacio. La commedia dell'amore. L'eterno e risaputo espediente delle donnine facili. Invece no. Si è disimpegnato bene. È in gamba. Poi abbiamo chiacchierato. Un po' come due sposini. Un po' come due stranei. Era piacevole. Sorrideva spesso mentre mi guardava. E ora ero io a dover voglia di darle un bacio. Ma sono rimasto calmo. Alla frontiera un funzionario gallonato ha aperto bruscamente lo sportello e mi ha chiesto Il vostro nome, signore? Sono rimasto sorpreso. Ho risposto Marchese di Roseverie. Dove siete diretto? Alla stazione termale di Lesce, nel Valais. Scriveva su un registro. Poi ha domandato La signora è vostra moglie. Che cosa fare? Cosa rispondere? Ho alzato gli occhi verso di lei, esitando. Berta era impallidita e guardava lontano. Ho capito che stavo per oltraggiarla senza motivo. E poi? Era o non era la mia compagna per un mese? Ho risposto Sì, è mia moglie. È arrossita all'improvviso e ne sono stato felice. Qui, all'arrivo in albergo, il proprietario le ha porto il registro. Subito lei me lo ha passato e ho capito che voleva guardarmi mentre scrivevo. Era la nostra prima sera, ma tu per tu. Una volta girata la pagina, chi mai avrebbe potuto leggere quel registro? Scrissi Marchese e Marchesa di Roseveri, in viaggio per Lesce. 21 giugno, Basilea, 6 del mattino. In partenza per Berna. Decisamente sono stato fortunato nella scelta. 21 giugno, 10 di sera. Strana giornata. Sono leggermente turbato. È stupido e buffo. Durante il viaggio abbiamo parlato poco. Lei si era alzata troppo presto. Era stanca e sonnecchiava. Appena arrivati a Berna, siamo andati ad ammirare il panorama delle Alpi, che non avevo mai veduto. Poi via, attraverso la città, come due freschi sposi. Ci siamo trovati davanti a una lunghissima pianura, con in fondo, ma proprio in fondo, i ghiacciai. Visti a questa distanza, non sembravano tanto grandi. Eppure quella vista mi ha dato i brividi. Si riscaldava un radioso sole al tramonto. C'era un gran caldo. Ma i monti di ghiaccio rimanevano freddi e candidi. La Jungfrau, la Vergine, dominava i suoi fratelli, mostrandole enormi pendici coperte di neve, mentre tutti gli altri monti, a perdita d'occhio, si ergevano attorno ad essa. Giganti col capopallido, cime viazzate da secoli in eterno, che la luce al crepuscolo faceva apparire chiare, come inargentate contro lo sfondo turchino della sera. Quella folla, inerte e gigantesca, faceva pensare all'inizio di un mondo nuovo e straordinario, una plaga arida, morta, immobile, ma seducente come il mare, dotata ad un fascino misterioso. L'aria che aveva sfiorato quelle cime eternamente ghiacciate e arrivava sino a noi, dopo essere passata sulle campagne anguste e fiorite, era diversa da quella fecondatrice delle pianure, con qualcosa di aspero, di forte, di sterile, quasi la furore degli spazi inaccessibili. Berte, commossa, non si stancava di guardare, anzi, pronunciava parole. All'inizio mi prese la mano e la strinse. Anch'io mi sentivo in uno stato quasi febbrile, nell'esaltazione che ci afferra davanti a uno spettacolo inatteso. Presi quella piccola mano fremente, me la portai alle labbra e la baciai, lo confesso, con vero amore. Mi sono sentito turbato. Da che? Da ghiacciai o da lei? 24 giugno, lesce, alle 10 di sera. Tutto il viaggio è stato delizioso. Abbiamo trascorso una mezza giornata a Thun, a osservare l'aspra frontiera delle montagne che il giorno seguente avremmo varcato. All'alba abbiamo attraversato il lago, forse il più bello di tutta la Svizzera. Ti aspettavano i muli. Siamo saliti in groppa e via. Abbiamo mangiato in un paese e poi abbiamo cominciato una lenta salita, entrando nella gola boscosa sempre dominata dalle alte cime. Ogni tanto, su pendii che sembra discendano direttamente dal cielo, si scorcevano dei puntini bianchi, villette inattese. Abbiamo superato dei torrenti, scorgendo qualche volta tra due montagne slanciate e coperte di abeti, immense piramidi di neve, tanto vicine da poter credere di arrivarci in venti minuti, mentre avremmo potuto farlo, e a fatica, in una giornata. Passavamo pure davanti a pietraie, strette spianate cosparse di rocce crollate, come dopo uno scontro tra due montagne che avevano lasciato sul campo di battaglia quel che restava delle loro membra di granito. Parte sfinita dormiva, appoggiata al mulo, e ogni tanto apriva gli occhi per vedere. Alla fine si è completamente assopita, e io la sostenevo con una mano, felice di sentire attraverso il vestito il dolce calore del suo corpo. Escesa la sera e noi continuavamo a salire. Ci siamo fermati davanti a una piccola locanda sperduta tra le montagne. Abbiamo dormito. Oh, quanto abbiamo dormito! Sul far del giorno sono corso alla finestra e ha mandato un grido. Barta mi si è avvicinata ed è rimasta stupefatta e meravigliata. Avevamo dormito in mezzo alla neve. Tutto intorno a noi, montagne brulle e gigantesche con grigie nervature che si disegnavano sotto quel mantello candido, montagne senza pini, tetre e gelide e così alte da parere inaccessibili. Un'ora dopo aver ripreso l'itinerario abbiamo visto in fondo al cratere di granito e di neve un lago scuro malinconico senza una sola increspatura e vi abbiamo girato intorno per molto tempo. Una guida ci ha offerto alcuni e del Weiss i palli di fiori dei ghiacciai. Barta ne ha fatto un mazzolino che ha puntato al petto. All'improvviso ci si è aperta davanti la gola rocciosa scoprendo un panorama straordinario. Tutte le Alpi del Piemonte oltre la Valle del Rodano. A tratti alcune grandi cime sembravano dominare le altre. Il Monte Rosa solenne e slanciato il Servino stretta piramide che ha causato la morte di tanti uomini il dente del gigante e altre cento punte che sotto il sole erano candide e luminose come diamanti. All'improvviso il sentiero che stavamo seguendo si arrestò proprio sull'orlo di un precipizio e nell'abisso in fondo al nero dirupo di duemila metri chiuso tra quattro muraglie di locce a picco scure e selvagge vedemmo su una piana verde alcune macchie bianche simili a pecore in un prato le case di lesce. È stato necessario abbandonare i muli dato che la strada si era fatta pericolosa il sentiero scende lungo la roccia va e viene serpeggiando sempre dominando quell'orrido e anche il paese che diventa più esteso man mano che ci avviciniamo questo paesaggio è chiamato Dilla Gemmi ed è uno dei più belli delle Alpi forse il più bello appoggiandosi a me Berte aveva delle esclamazioni di gioia e di spavento contenta e impaurita come una bambina mentre eravamo a una certa distanza dalle guida nascosti dalla sporgenza di una roccia mi ha baciato io l'ho stretta mi ero detto a lesce farò capire che non è mia moglie ma dovunque l'avevo trattata come tale dovunque l'avevo fatta passare come la marchesa di rose ferì adesso non potevo ragistrarla sotto un nome diverso e inoltre l'avrei ferita nell'intimo ed era deliziosa tuttavia l'ho ricordato cara amica adesso porto il mio nome pensano che io sia tuo marito spero che ti comporterai verso gli altri con la maggiore prudenza e discrezione possibili nessuna conoscenza niente chiacchiere niente relazioni ti credono pure superba ma fai in modo che non debba mai pentirmi di tutto quel che ho fatto ha risposto non aver paura rene caro 26 giugno a lesce lesce non è affatto triste un luogo impervio ma bello la muraglia di rocce alta 2000 metri su cui scivolano cento torrenti simili a reti d'argento l'eterno rumore dell'acqua che scorre il paese sepolto nel cuore delle alpi nel quale si vede il sole lontano come dal fondo di un pozzo il ghiacciaio vicino bianchissimo nell'incavo della montagna la valle piena di ruscelli di alberi di fresco e di vita scende verso il rodono lasciando intravedere sull'orizzonte le cime innevate del piemonte tutto questo mi affascina mi incanta forse se non fosse perverte questa ragazza è perfetta riservata e fine più di chiunque sento dire in giro quant'è graziosa cotesta giovane marchesa 27 giugno primo bagno si scende direttamente dalla camera nelle piscine dove già una ventina di persone sta facendo il bagno coperti da lunghi costumi di lana uomini e donne promiscuamente c'è chi mangia chi legge e chi parla spingono avanti a loro una tavoletta che galleggia c'è chi gioca a furetto ma non è sempre agevole visti dalla galleria che circonda la piscina sembriamo dei rospi giganti dentro un mastello Berta è venuta a sedersi nella galleria per discorrere un poco con me la guardano tutti 28 giugno secondo bagno 4 ore d'acqua fra 8 giorni saranno 8 come compagni di cura ho l'italiano principe di Vanorie l'austriaco conte Lofenberg l'ungherese o qualcosa del genere barone Samuel Verne oltre a una quindicina di altri minori di rango ma tutti nobili nelle località termali tutti sono nobili uno dopo l'altro mi chiedono tutti di essere presentati a Berta io rispondo sì certo ma poi mi sottraggo credono che sia geloso che sciocchezza 29 giugno diamine che cosa è imprevista la principessa di Vanorie è venuta da me per far la conoscenza di mia moglie proprio quando stavamo tornando in albergo mi ha presentato Berta poi ho pregato alla mia compagna di evitare accortamente di incontrare quella gran dama 29 luglio il principe ha insistito perché andassimo nel suo appartamento dove tutti i bagnanti di alto rango erano radunati per il tè Berta era più bella di tutte le altre donne che potevo farci 3 luglio tanto peggio è probabile che tra questi 30 nobili uomini almeno 10 siano falsi tra queste 16 o 17 signore non ce ne sono più di 12 sposate per davvero e di queste 12 non più di 6 possono dirsi irreprensibili peggio per loro te la sono voluta 10 luglio Berta è la regina di Lesce sono tutti impazziti per lei le fanno festa la viziano la adorano d'altra parte lei è splendida per grazia e per distinzione mi invidiano la principessa di Vanolini ha domandato ma dove avete trovato un simile tesoro marchese avrei voluto rispondere primo premio al conservatorio d'arte drammatica settore commedia già scritturata all'odeon in attesa di altre scritture a partire del 5 agosto 1880 santo cielo che fazza avrebbe fatto 20 luglio Berta continuava a sorprendermi mai un errore di tatto o di gusto una meraviglia 10 agosto Parigi finito sono addolorato la vigilia della partenza mi pareva che tutti stessero per piangere abbiamo deciso di andare ad assistere al sorgere del sole sul torrent horn e di ridiscenderne soltanto al momento di partire siamo partiti sui muli verso mezzanotte le guide reggevano lanterne e la lunga carovana si snodava per tortuosi sentieri nella pineta abbiamo attraversato Pascoli in cui mandrie di mucche si muovevano liberamente poi abbiamo raggiunto quella zona pietrosa in cui non c'è un filo d'erba ogni tanto vedevamo nell'oscurità a destra e a sinistra una massa bianca un mucchio di neve in un anfratto della montagna il freddo si faceva pungente mordeva gli occhi e la pelle il vento arido delle cimeci bruciava la gola col suo soffio portando i geli di aliti di 500 chilometri di nevai era ancora buio quando arrivammo alla vetta aprimmo le borse delle provviste per bere champagne alle varro del sole il cielo si faceva sempre più pallido sopra di noi già potevamo osservare l'orrido e i nostri piedi e un'altra vetta di alcune centinaia di metri tutto l'orizzonte era livido e ancora non si vedeva nulla in lontananza poco dopo si mostrarono a destra un'enorme montagna la Jungfrau poi un'altra e un'altra ancora si mostravano a poco a poco quasi si fossero alzate insieme all'alba ed eravamo stupefatti di trovarci in mezzo a quei giganti nella regione desolata della neve eterna all'improvviso ci apparve anche la smisurata catena del Piemonte e poi a nord altre creste l'immensa zona delle grandi montagne dalle fronti di ghiaccio dal Rinderhorn massiccio come il suo nome sino al fantasma appena visibile del patriarca delle Alpi il Monte Bianco alcuni erano fieramente dritti altri accovacciati altri deformi ma tutti ugualmente bianchi come se un dio avesse coperto la terra gibbosa con una tovaglia immacolata certe montagne parevano così vicine da potervi saltare sopra altre così lontane da essere appena visibili il cielo divenne rosso e tutti prendemmo quel colore sembrava che le nubi sanguinassero sopra di noi era quasi spaventoso eppure splendido presto le nubi di fiamma impallidirono e l'esercito delle vette a poco a poco diventò rosa un rosa soave e delicato come alcuni abiti di ragazze il sole apparve sulla distesa delle nevi e all'improvviso tutto il popolo dei ghiacciai assunse un bianco lucente come se l'orizzonte fosse pieno di tante cupole argentate le donne osservavano affascinate quando lo schiocco di un tappo di champagne le fece trasalire il principe di Vanorì presentò un calice aperte dicendo ad alta voce bevo alla marchesa di Roseverie tutti ripeterono bevo alla marchesa di Roseverie lei salì sul mulo e rispose bevo a tutti i miei amici tre ore dopo abbiamo preso il treno per Ginevra nella valle del Rodano appena soli Berte che prima era allegra e felice ha cominciato a singhiozzare col viso tra le mani mi sono slanciato alle sue ginocchia che hai che hai dimmi che hai attraverso le lacrime lei ha sussurrato ho finito di essere una donna per bene in quel momento sono stato vicinissimo a fare una sciocchezza una grossa sciocchezza ma non l'ho fatta ho lasciato Berte all'arrivo a Parigi forse dopo sarei stato troppo debole il diario del marchese di Roseverie non presenta annotazioni interessanti questa vicenda nei due anni successivi nel 1883 troviamo queste righe 20 luglio 1883 Firenze poco fa un ricordo triste stavo passeggiando per il parco delle cascine quando una signora ha fatto fermare la sua carrozza e mi ha chiamato era la principessa di Vanori appena sono stato a portata di voce caro marchese come sono contenta di avervi incontrato datemi subito notizie della marchesa la donna più graziosa che abbia conosciuto in vita mia rimasi sorpreso non sapevo cosa dire e il cuore mi batteva forte belbettai non parlatemi di lei principessa sono tre anni che l'ho perduta mi prese la mano quanto vi compiando caro amico andò via mi sentivo di nuovo triste scontento pensavo a Berte come se ci fossimo separati proprio allora il destino ci inganna spesso quante donne oneste erano nate per essere cortigiane e lo dimostrano povera Berte quante altre erano nate per essere donne oneste e lei lei più di tutte forse insomma non pensiamoci più